Che fatica del ricco è questa, che fatica del ricco, io non so, fai voi, vada che robina, grazie Luca, ci si vede alla prossima, ho presa io. Ciao ragazzi, ho sbordato, sbordato, sai che è il rumore, sai che è? Vada dove ci ritano, vada, e ci ritano tutte, queste signore, ragazzi, ho questo, questa macchina, anche tu sei camion e me e te, e ci guardano tutti, voglio scendere, aiuto, questa ha 780 cavalli, non mi fa cacare addosso, no, 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 vedi da qui si apre, 3, 2, 1, la boato dei 780 cavalli della nostra Lamborghini Aventador Ultimi, via! Benvenuti o bentornati nel canale di Big, nel cuore della Toscana pittoresca, tra i paesaggi mozzafiato, ragazzi, qui, è tutto uno spettacolo, oggi vi porto una delle più belle esperienze che mi siano mai capitate e che sfiorano incredibile, sfiorano incredibile e capirete il perché, un'esperienza che oggi ho il privilegio di condividere, ovviamente, con tutti voi e, ovviamente, inizi il video e sono in mezzo alla strada, c'è una macchina e mi sono disposti e questo vi è il classico, posso fare qualunque video, passare una macchina, ve lo giuro, ragazzi, macchina passata, avete visto una macchina? Ecco, è arrivata ora subito, bene, comunque si continua, questo sarà un video di assoluto divertimento, bellissimo da seguire in tutti i modi, ma mi raccomando, un like e non ve lo fai lì, iscrivetevi al canale perché siamo oltre 50.000, qui ci si diverte, si porta roba fighissima e ora vi porto anche un personaggio e mi ha fatto un regalo assurdo e dunque si comincia. Immaginatevi un luogo dove il vento culla i campi d'oro e le colline si perdono all'orizzonte, perché uno fa il poeta, andiamo? Insomma, vabbè, qui io ho avuto l'opportunità di entrare in contatto con una creatura automobilistica di eccezionale magnificenza, magnificenza ragazzi, un regalo assurdo, pazzesco, del mio amico Dota Brahali, ora vi dico chi è, tanto voi lo conosce tutti, insomma, va bene. Di cosa parlo? Guardate qui, una Lamborghini, però voi la vedrete per bene, Adventure Ultimi, limitata nella produzione, una vera e propria vettura assurda che costa più di 500.000 euro, e chi la guida? I bighe! La guida i bighe! Oh, ha un motore V12 da 6.500 cm3, aspirato, e sprigiona una sinfonia, e una potenza, e canta, canta! La guida, quando siamo al giro, la guida Luca, e vi racconterò il perché, ma insomma, è la guida anche i bighe. Oh, ragazzi, questa c'ha 780 cavalli, tutti sotto il cofano, là, un'accelerazione, è un'esplosione di adrenalina che, ma è un'ampestata, altro dei droni, altro dei droni! E' un po' addormentare sopra, vai! E' un po' addormentare sopra! Voglio scendere, aiuto! Oh, oh, questo è un gioiello, oh, è un gioiello di ingegneria, sfogge una scocca aerodinamica affusolata, una forma perfetta, e poi, madonna bellina, bellina, un camion, un camion, so a fare il video, delle, passo un camion, dello spurgo, dello spurgo! Andiamo, e si va avanti il mio amico. Insomma, oh, e mi sono spostato perché, ora, vediamo se si continua e si va avanti. E' una cosa che fa venire i brividi, quando si guida, ma anche quando ci si mette a sedere, accanto a lui, perché io, e mi ha portato a giro per la Toscana, ragazzi, in dei momenti mi ha fatto anche addosso, giusto per usare i francesi, è così. Qui, questi c'ha interni pazzeschi, e i bigan, a montarci sopra, è abbracciato dai lusso, dai comfort, è un regalo pazzesco, ora ve lo dico, ha una tecnologia incredibile, ha una modernità assurda, e insieme c'ha anche la bellezza, guardate, ovviamente, non basta il camion, arrivi anche i centi, madonna ragazzi, oh, non ce la fa. Comunque, è integrata in un sistema all'avanguardia, impeccabile, una connessione multimediale, e un'infinità di funzionalità che la rendono davvero un'esperienza di guida assurda, e chi ha passione su questa roba si sa cosa sto dicendo, è come se guida un drone, è tutto differente. Ma lasciatemi concludere con un colpo di scena, che vi lascerà tutti voi affascinati, eh sì. Questa Lamborghini Aventador Ultimate, purtroppo, l'avete capito, non è mia. Il titolo è verissimo, è assolutamente un regalo, che l'ho un po' detto, mi ha fatto il mio grande amico Luca Bracali, un fotografo regista Rai, di fama internazionale, che guida anche, fa il collaudatore, guida la macchina, è un tutto fare lui ragazzi, mi sbalordisce ogni volta che mi ci vedo Luca. E lui, grazie a questa macchina, ha catturato la bellezza della Toscana, per un incredibile servizio, per la Gazzetta dello Sport, e abbiamo condiviso il piacere di guidare questa meraviglia, su quattro rotte, e mi ha fatto, come avete letto nel titolo, un regalo assurdo. Ma Luca è qui con me, vieni Luca, vieni, ovviamente no. E Luca purtroppo, gliela dovrò restituire questa bellezza. E lui dovrà fare lo stesso, mi sa, verai, perché ragazzi, non è che è il suo, non è che se ci sa, quando si addio un passo in macchina, dava mezzo milione di euro, insomma, voglio dire. Comunque, questa esperienza e la Lamborghini rimarranno sempre impressi nella mia memoria. E così, tra i cipressi, le strade tortuose della Toscana, che è successo? Ibighe ha vissuto un momento che mi ha fatto sentire davvero come un re dell'estate. E tutto questo grazie ai grandi e miti di Luca. E ci mancherebbe. Allora, no, e ora entra in scena lui, entra in scena. Una domanda, e gliela devo fare Luca, gliela devo fare per forza. Allora, noi due, noi due, saremo a due appuntamenti imperdibili, uno all'Aiatico, il 21 ottobre, e uno a Peccioli, il 18 novembre. Fly, Like e Pro. Segnatevi le date, eh. Segnatevi le date, ve le metto qui sotto. Luca, ma questa Lamborghini? La porta è il teatro di silenzio. Così, almeno, voleremo, con il drone, inseguendo, anche lei, sarebbe top. Sarebbe la fine del mondo. Se il drone riuscisse a tenere i 351 orari della Ultime, sarebbe veramente... Ma noi, sa problemi? Ma noi no, non abbiamo problemi niente. Ma sa qual è il problema? Che te la guidi, io ti seguo il drone, perché... Eh, la funzione tracking funzionerà, oppure no? Sgancerà il drone, perché appunto è una di quelle funzioni che finché vai a piedi in bicicletta, anche e anche. Quando arrivi a velocità supersonica, può darsi che abbia qualche difficoltà. Comunque, comunque, ragazzi, se venite con noi a questi, a uno di questi due eventi, o a tutte e due, se volete, che sono due posti assurdi, assurdi perché sia il teatro di silenzio da dove è Bocelli, che Peccioli, che c'è la terrazza e c'è i giganti, veramente sono posti assurdi, noi vi condurremo in un'esperienza assolutamente straordinaria, unica, di quelle che vi farà battere forte il cuore, ma così veramente. E tutte le persone, tutti i nostri allievi, tutti coloro che hanno partecipato ai precedenti corsi, ne sono usciti non entusiasti, ben di più, e ci hanno ringraziato in una maniera quasi imbarazzata. Una grande soddisfazione, una enorme soddisfazione, guarda, onestamente sì. La metto al pari di questi giorni, mi ha fatto vivere con la Lamborghini. Addirittura? Sì, allora veramente grande. Per cui la metto nel cuore, come questa, e ora noi, si va. Partiamo? Eh certo, dai. Si va ragazzi, perché, lo sapete perché? Perché a noi, è vero, i droni, la velocità, la bellezza, ragazzi, ma con questa macchina, santefine si pigia, tutti. Alla prossima! Ma Remma, Luca, Budella, impestato, mi si va bene, va a trovare un po' di figa, vai. A tre scherzi. Ma che ci frega dei droni a noi? Ahahahah!